Due giorni carichi di energia, vedere ragazzi universitari solitamente abituati a camminare con i loro pensieri, testa bassa, che pensano quasi esclusivamente allo studio, vederli in un contesto del genere, di competition, di scambio di idee, di contaminazione di esperienze, e stanno venendo fuori delle idee fantastiche, che cambieranno questo luogo e lo lasceranno anche a chi verrà dopo di loro. Questa è la cosa più interessante che io ho visto in questi giorni.